Bisogna mettere tutti in sicurezza. Le famiglie, gli alunni e gli operatori scolastici devono essere messi in condizione di lavorare per garantire il diritto alla salute e all'istruzione. Se in questo momento per evitare il contagio e la diffusione del coronavirus è efficace e proseguire con la chiusura delle scuole, ben venga. E' il commento in queste ore di alcuni dirigenti scolastici della città di Salerno alle prese con disposizioni della Presidenza del Consiglio, provvedimenti della Regione Campania e circolari didattiche dell'Ufficio Scolastico Regionale. Tante le precauzioni da prendere e regole per la tutela della salute dettate dal Ministero. Per le scuole in primis bisogna garantire la distanza di un metro tra un banco e l'altro, ma pur volendo con classi di 25-30 ragazzi servirebbero metrature da palestra. Non mancano le pressioni e le apprezzioni dei genitori che si sentono poco sicuri e propendono invece per una didattica a distanza almeno nei giorni necessari per scongiurare i pericoli. Considerato che la curva epidemiologica sta crescendo in modo esponenziale, io sono dell'avviso che le scuole andrebbero chiuse. Andrebbero chiuse anche perché ciò che resta in questo momento è quello di ridurre quanto più possibile i contagi. I virologi, i media continuano a sostenere che bisogna evitare gli affollamenti e a mio avviso un'aula didattica è su perché affollata. In quanto pensiamo bene, in termini veritieri vi dico che un'aula che ho le aule più grandi di tutta la città di Salerno è di circa 40 metri quadrati dove ci sono 32 alunni. Pensate voi come possiamo mai garantire a questi ragazzi la giusta distanza, quella distanza di sicurezza che se ovviamente la sanità ci chiede. Oppure come fare noi affinché i ragazzi seguono tutte quelle prassi tipo lavare le mani spesso oppure stanno utile nel gomito, sono tutti gesti che è difficile da controllare. Allora mi avviso se i virologi dicono di evitare quando è più possibile affollamenti, i luoghi affollati dove sono indispensabili, perché non farlo anche a scuola? Perché a mio avviso parlo della mia scuola che siamo super attrezzate anche in maniera tecnologica e potremmo seguire le lezioni a distanza. Allora per me se è indispensabile fare una lezione in aula e farla a distanza perché non chiudere la scuola? Ma tutto questo in via precauzionale. Io non creo panico, non voglio creare panico, è soltanto a mio avviso una forma di responsabilità e di maturità, soprattutto per garantire e supportare il sistema sanitario che è in ginocchio. Pensate voi che un alunno che ha la febbre in aula già si scatena il panico tra genitori, tra alunni e tra i docenti stessi. Una psicosi c'è in atto e va anche tutelata questa, dobbiamo dare serenità. La preoccupazione è legittima perché c'è un avvicendarsi di voci che sono tra di loro contraddittorie e in mancanza di indicazioni da parte degli esperti che siano in qualche modo orientative per tutti. L'ideale è per far stare tranquilli i genitori, gli alunni, quella della chiusura delle scuole, ma la chiusura per il tempo necessario a che ci sia un giorno, un di essa quo, siamo tutti quanti sicuri che poi gli eventuali contagiati possano non nuocere a loro stessi e agli altri. Tutte le scuole stanno dimostrando di essere in grado di mantenere i contatti con gli alunni anche a scuola chiusa, diciamo a porte chiuse e quindi non siamo sicuramente una squadra di calcio, ma noi qua abbiamo veramente difficoltà al rispetto di norme, quali per esempio quella delle distanze. I ragazzi, io posso dire abbiamo delle aule meravigliose anche di 56 metri quadrati, ma garantire due metri per 34 o 32 studenti diventa, o anche un metro diventa diciamo complicato. In questi giorni ci sono stati casi in questa scuola che hanno destato qualche preoccupazione, magari anche una semplice influenza? No, devo dire che non c'è stata alcuna segnalazione in questo senso. C'è qualche alunno assente precauzionalmente, però diciamo senza sintomi di nulla e devo dire anche noi abbiamo svolto, avevamo nella nostra calendarizzazione le prove in balzi, ieri e oggi i ragazzi di quinta le hanno svolte tutti senza assenza in maniera molto serena.